Sono dati discordanti quelli rilevati da CGL e CISL sul mondo del lavoro e in particolar modo sull'occupazione ad Arezzo. Secondo la CISL in provincia di Arezzo i dati sono abbastanza confortanti nell'ultimo anno rispetto alla media nazionale, con un tasso di disoccupazione ad Arezzo pari al 10,9% contro il 9,2% toscano e quello 11,9% nazionale. Un tasso di disoccupazione che ad Arezzo si attesta al 64% contro quello nazionale del 56,3% nonostante ci siano circa 3.000 lavoratori in procedure concorsuali. La CGL invece nel suo report evidenzia non solo un segnale negativo ma anche l'incremento, addirittura un raddoppio, nell'utilizzo dei voucher. Nel 2015 le richieste erano state 2.084, al 31 ottobre del 2016 sono stati ben 4.884 coloro che li hanno richiesti e comperati. Una fotografia preoccupante in linea con il trend nazionale che evidenzia come il lavoro stabile e contratti a tempo indeterminati, sottolinea la CGL, siano ormai diventati per molti un miraggio. Tra l'altro, secondo i dati del rapporto Excelsior sui fabbisogni professionali e formativi delle imprese aretine, dei settori industrie e servizi, nell'anno 2016 nella provincia aretina è prevista una variazione negativa dell'occupazione. Un saldo occupazionale è atteso infatti con un segno meno di 210 unità, in miglioramento comunque rispetto alle 520 presenze in negativo di un anno prima. Il SAD atteso è la sintesi tra 3.070 entrate di lavoratori, sia subordinati che autonomi, e 3.280 uscite. Se il 2016 si chiude con il segno meno, il 2017 si apre all'insegna di alcuni punti interrogativi per quanto riguarda alcune situazioni lavorative. Basti pensare ad esempio al nodo Cantarelli in attesa di un acquirente, oppure al caso Banca Etruria. L'istituto di credito aretino, al centro di una cessione che avverrà nei primi giorni del 2017, mantiene alta l'attenzione da parte dei sindacati, soprattutto per il futuro dei dipendenti, a cominciare dal centro direzionale di via Calamandrei.